Il 6 ottobre alvia le vaccinazioni contro l'influenza a disposizione dell'Asrem 44.000 dosi per la partenza della campagna. Il presidente Toma lancia l'appello, vaccinarsi significa facilitare le operazioni di lotta alla pandemia. Tonino Perna, trionfo e declino di un imprenditore di successo, la parabola di un impero creato dal nulla e poi dissolto il ruolo fondamentale delle sue imprese nell'economia regionale. Perna parla a Telemolise nell'intervista del direttore Manuela Petiscia. Nuove tariffe idriche in vigore a Isernia sono state approvate dall'Aggiunta Comunale, rincari per la cittadinanza ma anche benefici e vantaggi, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Cesare Pietrangelo. Danilo Rea inaugura i concerti degli Amici della Musica. Domenica a Savoia darà il via la 52esima stagione, 22 gli appuntamenti fino a primavera. Il nuovo direttore artistico Antonella De Angelis ha presentato il cartellone. Coppa Italia regionale definiti gli ottavi, ieri l'ultima gara della fase a Gironi, le squadre di eccellenza e promozione si sono affrontate per staccare il pass per il prossimo turno, gli accoppiamenti decisi dalla federazione. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con la campagna di vaccinazione anti-influenzale dell'Asrem che partirà il 6 di ottobre, 44 mila le dosi a disposizione. Intanto dal presidente della regione Toma arriva l'appello a vaccinarsi. Vaccinarsi ha detto significa facilitare le operazioni di lotta alla pandemia in corsa. Lo ha intervistato Pasquale Di Bello. Al via la campagna anti-influenzale programmata dalla regione Molise e dall'Asrem. Le dosi distribuite saranno complessivamente 44 mila e saranno sufficienti a sostenere il fabbisogno regionale. Di queste 24 mila sono di approvvigionamento diretto, mentre altre 20 mila provengono dalle eccedenze di altre regioni, in questo caso dalla campagna. Abbiamo corso tutte le regioni ad accaparrarci le dosi di vaccino necessarie. In conferenza delle regioni qualche settimana fa abbiamo discusso della necessità che le regioni in eccedenza di dosi vaccinali cedano alle regioni in difetto di dosi vaccinali le dosi necessarie perché si arrivi quantomeno a pareggiare per tutte le regioni il fabbisogno minimo. Il Molise era una di quelle in difetto. Sono arrivate altre 24 mila dosi di vaccino dalla gara con l'Abruzzo. Noi siamo in partenariato con l'Abruzzo e la campagna ci manderà a breve altre 20 mila dosi. Quindi dovremmo avere il minimo indispensabile per le nostre necessità. Vaccinarsi quest'anno è particolarmente importante poiché rendersi immuni verso l'influenza ordinaria faciliterà l'individuazione di casi dovuti all'affezione da Covid-19. A lanciare la campagna di vaccinazioni e quindi l'invito a vaccinarsi sarà lo stesso governatore. È importante vaccinarti perché in questa maniera i sintomi Covid molto simili a quelli dell'influenza nel caso in cui ci si vaccini e si abbiano quei sintomi si può avere il sospetto che si abbia contratto il Covid e quindi sicuramente si sarà sottoposti a tampone. Se tu ti prendi l'influenza e non ti sei vaccinato è molto più complicato per il medico stabilire se i sintomi sono compatibili o meno con il Covid. Al Cardarelli intanto sono terminati i lavori di separazione in terapia intensiva delle aree destinate alla trattazione dei casi Covid e non Covid. Novità arrivano anche sul fronte della realizzazione del centro Covid regionale. Il commissario nazionale Domenico Arcuri si è dichiarato favorevole all'idea proposta da Toma di individuare nell'ASREM il soggetto attuatore per la realizzazione della struttura, una soluzione che accorcerebbe tempi e procedure. Era necessario separare i percorsi e separare le terapie intensive non Covid da quelle Covid. E' stato fatto, siamo pronti, l'ASREM mi ha dato assicurazioni che da oggi tutto è pronto e di questo siamo contentissimi. Ci sono novità, lei ha chiesto al commissario Arcuri che venga nominata all'ASREM come soggetto attuatore per la realizzazione del centro Covid regionale. Su questo versante ha avuto delle risposte? Ho avuto l'altro ieri la risposta pronta, devo dire, del commissario Arcuri che mi ha confermato la sua condivisione nel voler aderire alla mia proposta di nominare l'ASREM come soggetto attuatore. Poi mi sono dichiarato disponibile, qualora sia utile per la speditezza delle procedure propedeutiche alla realizzazione dei lavori presso il Cardarelli di Campobasso ma anche presso l'ospedale di Segna e quello di Terboli, mi sono dichiarato disponibile, se lo riterrà opportuno, ripeto, per la speditezza dei lavori, ad assumere anche la delega alle operazioni. E adesso i dati sul coronavirus in Molise con il bollettino dell'ASREM. Su 243 tamponi processati riscontrato un solo nuovo positivo a Boiano appartenente a Clasternoto, 6 invece i guariti, 4 a Campobasso, 1 a Macchiagodena, 1 a Boiano. Sono 140 gli attualmente positivi nella nostra regione, il totale dei guariti è salito a 492. Il prossimo bollettino dell'ASREM questa sera alle 18 e vi daremo contezza dei nuovi dati nell'edizione delle 19.30. Adesso la vicenda di Tonino Perna, l'imprenditore della moda tornato pochi giorni fa all'attenzione delle cronache, una storia tra luci e ombre, la parabola amara di un impero creato dal nulla e poi dissolto il ruolo fondamentale delle imprese di Tonino Perna nell'economia regionale degli scorsi anni. Lo ha intervistato il nostro direttore Manuela Petescia. Non sappiamo se la condanna inflitta a Tonino Perna in primo grado, con una sentenza non definitiva, sia giusta o ingiusta. Sappiamo per certo che non può cancellare ciò che Tonino Perna ha rappresentato per la nostra terra. La sua epoca, con le sue luci e le sue ombre, ha segnato la crescita economica della nostra regione, l'aumento del PIL, il lavoro entusiastico di centinaia di giovani, l'illusione di contare qualcosa all'interno di un contesto nazionale e internazionale. Tonino Perna ha costruito un segmento importante della storia del Molise e dell'industria della moda italiana, trascinando nel suo successo una miriade di aziende satelliti, un indotto diretto e indiretto che si nutriva delle sue capacità imprenditoriali e cresceva a sua volta, garantendo sviluppo e posti di lavoro. In tanti anni, per ITR Holding, mai un finanziamento pubblico, mai un ricorso alla cassa integrazione, mai un ritardo nei pagamenti, mai un mancato appuntamento con il fisco, mai uno sciopero, una vertenza sindacale, mai nemmeno un qualsiasi coinvolgimento nella politica. E poi c'è la vicenda umana, un impero creato dal nulla con le sue mani, il glamour, le copertine, le sfilate, i grandi marchi, lo sbarco in città come Parigi, Londra, New York, migliaia di punti vendita nel mondo, miliardi di fatturato. Poi, il declino. ITR è una storia importante. è una storia che non appartiene solo a me e ai miei collaboratori, ma è una storia di successo di tutto il Molise. È partita negli anni Ottanta. Nel 97 già eravamo pronti per la quotazione e ci quotammo. Ci quotammo, fu un grande successo, successo in tutto il mondo, vendemmo le azioni in tutti i continenti. Dopo il 97 facciamo delle acquisizioni importanti, partimmo con Romeo Gigli, poi facemmo Malo, poi facemmo Ferrezza. Anche indebitandoci, facemmo dei piani di rientro di questo investimento. Il mercato li accettò. Purtroppo arrivò l'11 settembre. L'11 settembre cambiò il mondo per un'azienda che aveva dei programmi di sviluppo, di rientro importanti. E quindi ci dovremmo rifasare completamente, ma non ci arrendemmo, rifacemmo i programmi, ci riorganizzammo, ristrutturammo il debito. Dovevamo fare un aumento di capitale per sanare tutti gli investimenti e continuare a sviluppare, a aprire negozi in tutto il mondo. Il business girava, continuava a girare sempre di più. E però tutto questo si realizzava nel 2007, se non che si irrigidì tutto il sistema finanziario, fallirono le banche, quello che è successo. E questa scadenza coincise esattamente con il mese più buio. Allora mi ritrovai all'inizio del 2009. In due giorni mi resi conto che dovevo fare una drastica riduzione al gruppo, sia di sviluppo ma anche ridimensionarla totalmente. Quindi licenziare molte persone. Licenziare le persone, chiudere qualche attività non profittevole. E allora io dissi, in una nottata decisi, a questo punto faccio un passo indietro io. I miei collaboratori, tutti quelli che hanno costruito con me il gruppo, ci hanno creduto, continuano a realizzare il suo sogno. Io mi guardo dalla finestra, il gruppo che continua a espandersi, convocai un consiglio e decidemmo di affidare alla Marzano, quindi allo Stato, al Ministero dello Sviluppo. Sostanzialmente invece di ridimensionare l'azienda, lei la consegna allo Stato, alla struttura commissariale, sperando che in questo modo sarebbe ripartita o rimasta a quei livelli di sviluppo. Il mio desiderio è vedere questo gruppo, che Ferré ha lanciato, Malo ha lanciato, le linee giovani crescere, che potessero veramente affermarsi come il gruppo multi-brand più importante d'Italia. E quello mi bastava come gratificazione. E purtroppo è quella scelta che ho sbagliato. Sbagliando quella scelta sono arrivati i commissari, con l'arroganza, è iniziata pure la trafila politica, quello che non era mai successo nel gruppo. Hanno licenziato i manager che avevano creato il gruppo. Il gruppo funzionava perché erano i fedeli di Perna, quindi andavano messi fuori, senza nessuna idea. Quindi hanno distrutto completamente il gruppo e il sogno di chi aveva speso una vita, insieme a me, a creare quel gruppo. Riuscirà a dimostrare la sua totale innocenza in secondo grado? Certamente. Torniamo adesso a parlare della vicenda dell'imprenditore di Santa Maria del Molise che nei giorni scorsi è approdato a Lampedusa su una barca con dei nordafricani. Una vicenda che ha destato l'attenzione dei media. L'uomo, una volta sull'isola, ha fatto il tampone. È risultato negativo ed è ripartito per il suo paese in Molise, dove adesso è in quarantena. Per tutelare la sua privacy e per evitare che si diffondano notizie false, si è rivolto agli avvocati Arturo Messere e Paolo Lanese. Ci riserviamo, ha detto Messere, di proporre denuncia e querela nei confronti di chi ha dato notizie diffamatorie. Oggi la vicenda è stata riportata anche dal Corriere della Sera. Messere ha spiegato che l'uomo in Tunisia ha un'azienda che produce jeans. Chiusa da aprile a causa del Covid, l'imprenditore ha avuto problemi per dei ritardi nei pagamenti da parte dei fornitori e dunque aveva necessità di tornare in Italia, ma era impossibilitato a farlo a causa delle restrizioni anti-Covid imposte dalla Tunisia. Di cui ha precisato Messere la scelta di arrivare nelle modalità con le quali appunto è approdato in Italia. Ancora un furbetto del reddito di cittadinanza scovato dalle forze dell'ordine, questa volta a finire sotto la lente dei carabinieri di Mirabello Sanniti, con 52enne di Campobasso, secondo i militari dell'arma, ha percepito per mesi il beneficio mantenendo la residenza fittizia nel comune molisano presso un immobile, risultato poi, al termine degli accertamenti, disabitato da anni. Da aprile del 2019 ad agosto del 2020 ha percepito 8.500 euro. L'Inps, oltre ad interrompere l'ulteriore erogazione del sussidio, fanno sapere sempre i carabinieri, provvederà al recupero delle somme illecitamente percepite. Macro Regioni, intervento del deputato molisano Antonio Federico, dei 5 Stelle, in Commissione questioni regionali alla presenza del Ministro Francesco Boccia. Mettiamo in sicurezza il Paese e poi apriamo il dibattito in Parlamento pensando ai servizi al cittadino più che ai confini, ha detto Federico. Sentiamo. È importante tornare a parlare dell'assetto istituzionale del Paese, in particolare di Macro Regioni, ed è giusto che il tema sia affrontato in Parlamento da tutte le forze politiche. Ne è convinto il deputato dei 5 Stelle Antonio Federico, che ha ribadito il concetto in Commissione questioni regionali alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Secondo Federico, alla luce dell'indagine conoscitiva portata avanti dalla stessa Commissione sul regionalismo differenziato, parallelamente sarebbe giusto cominciare a ragionare anche in Commissione su Macro Regioni come veicolo per migliorare l'erogazione di servizi, sanità, trasporti, scuola. Volevo approfittare di questo dibattito anche per inserire, approfittare la sua presenza, un dibattito che secondo me questa Commissione deve affrontare, probabilmente anche parallelamente, che è quello della ridefinizione dei confini territoriali delle regioni, cioè il tema delle macroregioni, delle aree vaste che possono superare anche definitivamente le province. Lo dico da cittadino ex amministratore della piccola regione al Stato Ordinario, il Molise, che non potrà mai avere la massa critica per tante cose che ho anche più volte detto in questa Commissione, rispetto a quelle che sono anche le previsioni del regionalismo differenziato. Quindi, oltre a quella perequazione necessaria per recuperare un gap istituzionale, c'è anche una necessità di capire come mettere in condizione tutti i territori, di avere quei numeri per poter garantire adeguatezza, garantire sicurezza, sostenibilità di tutti i servizi che devono essere erogati. ILEA nella sanità, ma anche ILEP di cui parliamo noi per il regionalismo differenziato. Nei prossimi mesi, ha spiegato Federico, arriveranno risorse come mai in passato e tante di queste sono destinate al sud, circa 140 miliardi di euro. C'è poi il fondo per equativo con cui ridurre il gap infrastrutturale, anche digitale, tra le diverse aree del paese. Per ora ci sono 500 milioni di euro per i prossimi tre anni. Ma entro quest'anno i ministeri di infrastrutture e finanze dovranno definire gli standard infrastrutturali e potranno aggiungere ulteriori risorse. Secondo Federico, ora c'è bisogno dell'aiuto di tutti e soprattutto c'è bisogno di un'equa distribuzione delle risorse e di una migliore erogazione dei servizi essenziali. La polizia di Termoli ha arrestato una donna di 34 anni originaria di San Severo la sera del 29 settembre stava spacciando in una strada poco illuminata del porto dove è stata però sorpresa dagli agenti della volante, ha tentato di disfarsi della droga gettandola verso gli scogli, si trattava di involucri di cocaina ed eroina già suddivise in 25 dosi pronte per la vendita. I poliziotti hanno sequestrato tutto, compresi 600 euro in banconote di vario taglio che la donna aveva con sé probabilmente i guadagni dello spaccio. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto ed è stata contestualmente sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione presso il commissariato di Termoli. I carabinieri del NAS di Campobasso invece hanno segnalato all'autorità giudiziaria cinque fisioterapisti della provincia di Isernia per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria in quanto, seppur in possesso del titolo accademico, non risultavano iscritti all'ordine professionale. Per uno di loro i militari hanno anche proceduto all'immediata sospensione dell'attività del centro fisioterapico per mancanza del titolo autorizzativo. Analogo provvedimento con conseguente deferimento all'autorità giudiziaria è stato adottato a carico di un altro fisioterapista titolare di un centro del Basso Molise non autorizzato. Nuove tariffe idriche in vigore approvate dall'Aggiunta Comunale di Isernia, rincari per la cittadinanza ma anche benefici e vantaggi. I chiarimenti dell'assessore ai lavori pubblici Cesare Pietrangelo. Sentiamo Barbara Fino. Approvato nello scorso Consiglio Comunale ad Isernia il nuovo regolamento idrico e le nuove tariffe che non hanno lasciato i cittadini del tutto contenti, considerando l'aumento di 230 mila euro che sarà spalmato sulle bollette. Ma in che modo, ma soprattutto con quale contropartita? Una precisazione arriva dall'assessore ai lavori pubblici Cesare Pietrangelo. Ci saranno dei piccoli aumenti, soprattutto nei consumi più alti. Abbiamo inteso agevolare i consumi più bassi, quelli più contenuti, proprio perché l'acqua è un bene di prima necessità e pertanto ognuno di noi deve essere proiettato a risparmiare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conteggiato un 18 metri cubi all'anno per ogni utente, pari a 50 litri al giorno, e che può rientrare in una fascia agevolata. Non solo, abbiamo previsto anche dei bonus per le famiglie meno ambienti, dove fino a 18 sempre metri cubi all'anno per ogni utente si vedono agevolato a zero la tariffa, benché debbano presentare ovviamente l'ISE o la dichiarazione dei redditi e quindi questo farà fide alla loro condizione. Bonus e benefici per le famiglie più numerose e rincari sugli utilizzi di acqua che non sono strettamente legati alla necessarietà. L'aumento è destinato soprattutto per chi consuma molta acqua, è destinato per coloro i quali usano l'acqua a scopo produttivo, ovvero usano l'acqua per trarne profitto. Abbiamo visto che tanti cittadini hanno messo le piscine nei loro giardini. Ebbene, questa è una necessità per coloro i quali hanno i giardini e che vogliono essere, come dire, vivere un momento di frescura in estate e ne abbiamo fatto diventare una virtù per il Comune, poiché abbiamo previsto per queste persone di poter riempire legittimamente queste piscine, facendo una domanda al Comune nei tempi in cui è possibile erogare loro la prestazione, faranno la domanda, il Comune autorizzerà e pagheranno per ogni metro cubo della piscina euro 20. Carta dei servizi e regolamento idrico attualizzati dunque con le reali necessità dei contribuenti e in adeguamento alle nuove normative della RERA. È stata approvata in seconda commissione la proposta di legge della consigliera regionale Aida Romagnuolo su pescaturismo e etiturismo. Questa mia legge ha detto che la Romagnuolo vuole dare un contributo al settore della pesca ed anche al turismo tradizionale con un intervento che vuole aiutare le imprese del settore a stare al passo con quelle delle altre regioni. La Romagnuolo ha ringraziato i colleghi, il presidente Michele Iorio, Armandino De Gidio, Vittorino Facciolla e Vittorio Nola che con lei hanno approvato e apprezzato il progetto a breve in aula per la definitiva approvazione. E nasce a termo il primo presidio della legalità di ultimi, l'associazione di Don Agnello Manganiello, parroco che si batte da anni contro la camorra, Laura Venitelli, promotrice dell'iniziativa sentiamo Andrea Nasillo. L'associazione Ultimi di Don Agnello Manganiello, parroco di Scampia impegnato da anni nella lotta alla camorra, mette il suo sigillo a termoli, nasce a un presidio di legalità nella città adriatica. Laura Venitelli, già all'opera sul territorio dal 2018, attraverso l'associazione La Casa dei Diritti ha voluto portare a termoli questa nuova realtà. Già prima che la pandemia bloccasse l'Italia, il parroco era stato in città incontrando giovani e adulti. In questi mesi sono stati coinvolti diversi cittadini che avvieranno le attività sulla costa e nell'Interland. Oggi c'è questo presidio che è un presidio di carattere regionale dell'associazione Ultimi con un gruppo di ragazzi, giovani, donne e uomini che ci hanno creduto e ci credono nella necessità di fissare un presidio di legalità nel nostro territorio, parte da termoli ma con l'invito anche ad altri giovani, altri soggetti che vorranno partecipare di voler aderire a questa proposta anche magari allargando la possibilità di altri presidi anche per il resto del Molise. Il presidio, bastione della legalità, si batte per l'affermazione delle buone pratiche per riottenere quei diritti delle persone e delle comunità riconosciuti dalla nostra Costituzione ma spesso e volentieri negati. A Termoli, e Don Agnello lo sottolinea, sarà innanzitutto importante monitorare il territorio per stabilire quali siano le necessità cui l'associazione, attraverso un'azione sinergica con la Casa dei Diritti, potrà fare fronte. Uno degli aspetti peculiari, fondamentali dell'associazione Ultimi è quella di raggiungere per quanto è possibile i luoghi di tutto il territorio nazionale, là dove non ci sono presidi, ci sono referenti regionali. Perché? Perché penso ecco che Ultimi per la legalità contro le mafie sia una proposta che può andare bene in tutti i territori, in tutti gli ambiti del nostro paese. Il tema della legalità è un tema che riguarda tutti, il tema dell'onestà, il tema della correttezza, della trasparenza, della lotta alla corruzione. Sono impegni, sono aspetti che devono riguardare tutti. Un'ennesima sconfitta per il Molise e in generale per tutti noi la possibilità che il centro Amazon venisse realizzato a Termoli è svanita. Sulla vicenda interviene così il consigliere regionale Vittorino Facciolla. Sembra certo che il Colosso americano aprirà il suo centro di smistamento e magazzino nella vicina San Salvo, in Abruzzo, dando la possibilità ad oltre 3.000 persone di poter trovare lavoro. Non possiamo far altro che registrare ancora una volta, dice l'esponente del Partito Democratico, l'assenza totale di lungimiranza e programmazione nella politica che guida la nostra regione. E, ha concluso Facciolla, la mancanza di autorevolezza dei nostri governanti ai tavoli delle trattative. Alleanza delle cooperative italiane del Molise in assemblea per fare il punto della situazione e fare richieste alla politica. Vogliamo sfidare la ripartenza, il modello cooperativo funziona, ma ci servono fondi e appoggio. Nominato il nuovo presidente, che è Agostino Defensa. Sentiamo Marta Martino. Il mondo delle cooperative in Molise esiste e funziona bene, anzi è un piccolo motore dell'economia regionale che racchiude tutto il sistema produttivo, dall'agricoltura al sociale, dalla cultura al turismo e soprattutto crede in quello che fa e si vuole impegnare sempre di più per diventare la parte attiva e sana del rilancio della regione. Ma questa è la domanda rivolta dai soci dell'alleanza delle cooperative italiane del Molise riunite a Campobasso. La politica crede nel mondo della cooperazione? Perché, ha fatto presente il presidente uscente Domenico Calleo, all'assessore al lavoro Michele Marone, non parrebbe, visto che i fondi non arrivano e sembra sempre di chiedere l'elemosina. Servono gli strumenti giusti soprattutto per sostenere il nascente progetto di alleanza sul territorio, per fare gruppo, per fare rete e coinvolgere i giovani molisani. Assolutamente sì. Oggi abbiamo praticamente convocato l'Assemblea dell'ACI Molise perché abbiamo avviato un processo di fusione tra le tre centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale, per cui Confo Cooperative, Lega Coppa e AGC stanno procedendo per la fusione e la costituzione di una centrale cooperativa. Questo logicamente sia a livello nazionale sia a livello regionale. Insieme sicuramente potremmo utilizzare un'unica voce e chiedere alla politica quelli che poi sono i bisogni delle nostre cooperative e cercare poi di essere parte attiva per rilanciare in questo momento così critico l'economia molisana. Certo, quello che chiediamo noi è sicuramente la sburocratizzazione, l'accesso al credito, iniziativa a favore della piccola e media impresa, cercare di mettere in condizione sicuramente le nostre cooperative a soddisfare i bisogni stessi dei soci lavoratori, delle loro famiglie e soprattutto per essere parte attiva a rilancio dell'economia regionale. E credo che insieme, utilizzando un unico linguaggio, questo si possa ottenere. Manca la cultura d'impresa tra i giovani molisani. Ha fatto presente il neopresidente Agostino Defensa, eletto durante l'assemblea. Tutti sono alla ricerca del posto fisso e ancora impera la mentalità dell'assistenzialismo. Ed è quindi in questa direzione che vuole andare ACI, cercare di fare formazione perché i giovani restino e investano energie nella loro regione. L'idea che ho io, ma che è condivisa dagli altri due presidenti, è quello di creare sicuramente dei servizi, dei maggiori servizi per le nostre cooperative. E questi servizi li vogliamo dare su tutto il territorio, con una struttura snella, leggera ma incisiva, che dia risorse ma dia anche delle risposte al mondo della cooperazione. Quindi l'idea nostra di creare un centro servizi, un centro servizi unificato che lavori e che crei anche insieme ai giovani, perché pensiamo e crediamo nei giovani. Cerchiamo di fare un percorso per dare risposte alla loro esigenza in primis di lavoro. A breve usciranno bandi per finanziare iniziative private per stimolare un nuovo concetto di lavoro. Questa è la risposta dell'assessore al lavoro Michele Marone. Sicuramente questo governo regionale è pronto a collaborare, anzi a raccogliere le istanze del mondo della cooperazione e attraverso l'ACI regionale sicuramente si farà un ottimo lavoro sul territorio. Incendio in una nota azienda di Montaquila. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Isernia con tre squadre operative sul posto. Spento il rogo, i vigili hanno proceduto alla bonifica dei luoghi alla ricerca delle cause dell'incendio. Come vedete in queste foto, ecco l'incendio che si è propagato. Si potrebbe trattare di un cortocircuito elettrico. La testimonianza a caldo del titolare di Europea 92 Marciano Ricci. Sarà il pianista Danilo Rea. Domenica prossima ad aprire la 52esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica di Campobasso. 22 i concerti in programma fino a primavera. Questa mattina la presentazione del cartellone al Teatro Savoia con il debutto del nuovo direttore artistico della Rassegna. Per noi c'era Enzo Luongo. Più di mille concerti all'attivo in oltre 50 anni di attività. L'Associazione degli Amici della Musica di Campobasso è tra le prime associazioni musicali d'Italia a ripartire con la stagione concertistica dopo il lungo stoppo dovuto all'emergenza sanitaria. Una ripartenza che coincide anche con la riapertura del Teatro Savoia di Campobasso che riprende gli spettacoli dopo mesi di chiusura proprio in questo fine settimana. Ed è stato il Savoia ad ospitare la conferenza stampa di presentazione della 52esima stagione concertistica, presentazione che ha segnato anche il debutto del nuovo direttore artistico Antonella De Angelis. Si parte domenica con un jazzista imperfetto, così lui stesso si definisce. Sul palco ci sarà infatti Danilo Rea. Poi altri 21 appuntamenti fino a primavera con spettacoli e nomi altrettanto importanti. dalla musica da camera per archi, la musica per strumenti a fiato, il gomma labbra squintet, il duo con il flauto, il flautista che è della RAE di Torino, il clarinetto, per dare anche spazio ai generi come il tango, come il jazz con la presenza di Danilo Rea in apertura della stagione, al teatro musicale con Pinocchio Libero Tutti e Sergio Bini come attore detto Bustric e anche dando spazio ai giovani, il duo Picotti, Violonciale e Pianoforte, poi un particolare programma con la Marimba, con Claudio Sant'Angelo e delle donne al violino che presentano delle parodie musicali. Quindi musica da camera, orchestre da camera, dal barocco col sopranista Francesco Di Vito, poi con l'orchestra Vivaldi e Domenico Nordio, grande solista al violino. Ho cercato proprio veramente di coprire più generi musicali anche rispettando l'imprinting dell'associazione che è quello particolare della musica cameristica. Alla presentazione della stagione concertistica sono intervenuti anche il segretario dell'associazione Sabatino del Sordo, il presidente della regione Donato Toma, il vice sindaco di Campobasso Paola Felice e la presidente della fondazione Molise Cultura Antonella Presutti. Tutti hanno voluto ricordare la figura di Walter De Angelis, storico fondatore e primo direttore artistico degli Amici della Musica. Oggi si chiede un cerchio con la figlia Antonella, direttrice d'orchestra, che prende il posto che fu di suo padre. Il papà con i suoi cari amici volle nel 69 con tanta passione e capabilità a fondare questa perla della città e del Molise, portando la cultura e portando la musica in un momento inaspettato. Per me è una grande responsabilità ma anche una grande emozione perché io ho vissuto questa sua esperienza in maniera all'atere, come una mia storia personale da ragazza, da piccolina. Quindi sicuramente sento un significato molto profondo, molto intimo e ogni volta che penso qualcosa penso a lui come la pensava lui. È tutto, termina qui il nostro TG delle 14. Vi lascio ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.